buongiorno e benvenuti nel mio spazio eccoci alla seconda puntata relativa all'aspetto atletico nell'espressione ciclistica due le puntate sia perché l'argomento richiedeva un po troppo tempo per uno singolo episodio sia perché due sono le facce della medaglia relativa allo stesso concetto nel senso che atleta o ciclista ciclista o atleta rappresentano le due facce della medaglia della stessa persona che dovrebbe essere o rappresentare a me due le situazioni anzi io dico prima ci deve essere la persona poi l'atleta poi il ciclista anche se tante volte le cose non stanno esattamente in questo ordine andiamo nello specifico nell'argomento con il quale ho chiuso la precedente puntata relativa all'atletismo vero e proprio quindi abbiamo parlato di composizione corporea stress o system migenio nutrizionale respirazione ho accennato il concetto di atletismo che approfondirò adesso in questo episodio cos'è l'atletismo non è altro che la ricerca la cura di tutti quegli aspetti che portano al corpo ad esprimersi in al meglio nel suo modo di muoversi con o senza applicazione di carico quindi coltivazione degli schemi motori piuttosto che sviluppo di nuove e o correzione di abilità motorie postura e soprattutto sviluppo poi della forza nelle sue varie forme con varie tipologie di attrezzatura questo è il mondo dell'atletismo il mondo del simbolo che non fa altro che completare la persona nel suo nella sua globalità di espressione motoria che non fa altro che poi che esaltare quella che sarà la specificità del suo gesto atletico ecco che il pugile se è più forte più resistente riuscirà ad esprimersi al meglio poi nel tirare pugni quando sarà sul ring ecco che lo sciatore riuscirà ad avere il massimo controllo della situazione in discesa piuttosto che la massima velocità possibile e la massima sopportazione del carico di lavoro nel tempo della discesa se avrà determinate caratteristiche atletiche non è che questo anche se è bravissimo sciare mette sugli sci e vince una gara forse nello sciro una volta era così nello sciro moderno non funziona così così come non funziona più nel ciclismo moderno dove c'è detto nella scorsa puntata non è più da considerarsi come uno sport di sola resistenza ma uno sport comunque di base endurance ma a componente mista quindi dove tutte le componenti vengono messe in gioco e tutte richiedono la massima performance possibile poi è ovvio che ci saranno atleti con caratteristiche diverse quindi non possiamo aspettarci ovviamente che uno scalatore esprima la potenza di un velocista e viceversa così come ci sono discipline ciclistiche diverse la bmx ciclo cross la pista e su pista le varie forme di anche lì gli aspetti con le varie discipline il ciclismo su strada e altre materie ciclistiche sempre la mountain bike la discesa ad esempio dove ogni caratteristica ogni disciplina avrà il suo modello di prestazione e ogni modello di prestazione va a richiedere una certa specificità di capacità condizionale e capacità coordinative ma alla base di tutto ci deve essere un background di atleticità che non farà altro poi che esaltare l'applicazione delle capacità condizionali e coordinative richieste dalla disciplina in essere non farà altro che non dico degradare ma mettere un po sottotono le stesse qualora non vi sia un background atletico a monte una volta andava bene un po tutto si si pensa anche dal punto di vista dei mezzi tecnici nella downhill tante volte agli albori del downhill si correva con biciclette da cross country leggermente modificate perché non c'era la tecnologia specifica per il downhill adesso c'è le biciclette non assomigliano quasi per nulla delle biciclette di cross country come la preparazione fisica di un atleta che si cimenta in downhill non sarà la stessa di colui che si cimenta nel cross country anche se alla base tutti e due devono comunque avere un certo background atletico su questo potremo aprire un dibattito lungo quanto e non di certo lungo quanto video ma richiederebbe bene molte più puntate comunque cosa fare nel concetto di a preti di al preti tismo la palestra ma come si come anche il garage di casa piuttosto che il giardino o il parco possono essere dei luoghi dove a esercitare queste qualità e con cosa con attrezzatura come il bilanciere le manubri gli elastici e altri aggeggi che possano aiutarci a cimentarci in un allenamento per lo sviluppo della forza nelle sue varie forme la forza esplosiva piuttosto che la forza massima o via dicendo e possano aiutarci poi a coltivare quegli aspetti relativi ad esempio alla costability a tutti gli aspetti relativi al concetto di postural a tutti i concetti relativi magari allo sviluppo di nuovi schemi motori di nuove abilità motorie agli aspetti coordinativi piuttosto che agli aspetti magari legati al lavori metabolici ad alta intensità agli kt piuttosto che a quelle combinazioni motorie se così vengono chiamare tipo se si può dire il nome il crossfit o altro dove anche lì si vanno a ricercare determinate qualità specie magari poi magari nella forza esplosiva e nel lavoro lattacido ecco queste sono tutte cose che possiamo ricercare nel mondo dell'atletismo che poi divaranno utilissime qualora poi l'atleta salga in sella e potrà esprimersi al meglio con il suo mezzo e con le applicazioni di forza e resistenza e resistenza scusatemi specifiche per quel mezzo così come ho chiuso nel scorso video dicendo che spesso e valentieri mi trovo di fronte a situazioni di composizione corporea e soprattutto stress o system talvolta imbarazzanti anche di fronte ad atleti che nella loro disciplina vanno forte e lo stesso accade dal punto di vista atletico spesso mi trovo con atleti che magari potrebbero anche andare più forte o vanno già hanno già determinate prestazioni poi magari sono incapaci di svolgere i basilari esercizi ginico motori uno squat un push up uno stacco la terra una girata e diventa imbarazzanti la situazione non tanto perché dobbiamo criticare queste persone ma ci mancherebbe quanto per il fatto che queste persone spesso si trovano di fronte ad un muro nel senso nel quale che nella loro specificità non riescono a migliorare e si trovano a un punto di stallo per migliorare dovrebbero magari incrementare la forza soprattutto la forza esplosiva e non si riesce a farglielo fare perché non godono di un corpo adeguato a eseguire correttamente quegli esercizi in palestra specifici per fargli aumentare quel tipo di forza e diventa un problema perché poi rieducare quelle abilità motorie o andare a sbloccare determinati vincoli posturali piuttosto che di mobilità richiede poi tempi molto molto lunghi l'atleta spesso non ha questi tempi perché ovviamente la stagione richiede tempistiche diverse da quelle che richiederebbe poi lo sviluppo di queste di queste qualità quindi è un toccasana per applicare o insegnare fino alle categorie giovanili ad usare il proprio corpo in modo atletico perché poi servirà anche quando sono grandi e dovranno affrontare il mondo dell'atletismo ad un certo livello dove quando sono grandi poi non c'è più tempo per spiegare come fare una girata la devono già saper fare si tratta solo poi un certo punto di dire ok adesso la sai fare la farai con un certo carico perché è tempo è ora di aumentare la tua potenza ma se manca il gesto atletico dobbiamo cominciare da capo in un'età e in una condizione di temporale nella quale non c'è la possibilità di farlo viceversa poi nel mondo invece amatoriale spesso mi trovo a che fare con e anche qui si apre il vaso di pandora con l'effetto contrario sono un ciclista ma non sono un atleta non mi interessa il mio lato atletico voglio solo pedalare magari facendo i grandi volumi di lavoro tipico delle richieste del ciclista sì certo se la natura ti ha regalato questa questa possibilità o che sfrutta la malaspirazione volentieri sia ci si trova o ci si imbatti in situazioni veramente drammatiche imbarazzanti dove poi oltre a un mancato livello prestativo c'è anche un problema di salute relativo a disfunzioni posturali disfunzioni articolari dolore o altre patologie in essere scaturite da una mancata atleticità e dal voler volersi medesimare in un gesto atletico come quello di ciclismo magari portato per ore e ore con un corpo che è tutt'altro che pronto per poterlo per poterlo fare sovrappeso a parte ecco questo è un po il concetto di atletismo ecco ricordiamoci il mondo non è più quello di una volta facciamo perdere i tempi pioneristici di coppia e bartoli ma il mondo del ciclismo attuale già non è più quello di cinque anni fa figuriamoci quello degli anni 90 gli anni 2000 è un mondo completamente diverso che si sta evolvendo tecnologicamente ma si sta volendo anche nelle metodiche di allenamento e gli atleti sono sempre più evoluti e richiede sicuramente un intervento globale sull'atleta non è più possibile improvvisare non è più possibile affrontare la carriera di un atleta senza una programmazione a lungo termine non è più possibile pensare che l'atleta se la possa cavare solo facendo ricorso a quello che sono le capacità condizionali coordinativa che madre natura gli ha donato perché purtroppo la competitività è sempre più elevata e richiede un'esaltazione di tutte le qualità condizionali che l'atleta può mettere in gioco in quelle situazioni ciclistiche e con questo alla prossima puntata